Amici appassionati di tecnologia, oggi si torna a parlare di smartphone. E che smartphone? Eccolo qua, il Dogi V30 Pro. Vi ho già parlato del V31, non so se avete visto, se avete seguito, se mi state seguendo sul canale. Lui, avesse avuto anche un display AMOLED, sarebbe stato il mio rugged preferito, perché è veramente un top di gamma nella categoria corazzati. Eccolo qua, perché? Perché ha una fotocamera da 200 megapixel, oltre a una fotocamera night vision, quindi vi vede assolutamente nell'oscurità, non c'è buio che tenga e oltretutto ha una grandangolare in aggiunta. Veramente qualcosa di stratosferico nel reparto rugged e poi 32GB di RAM e poi 512GB di archiviazione audio stereo da paura. Insomma, lui è Dogi V30 Pro che vado a raccontarvi in questa recensione completa. Confezione di vendita del Dogi V30 Pro. E già fa impressione leggere queste caratteristiche qua in alto. Cosa troviamo all'interno? Un caricatore di nuova generazione, quindi tipo C, da ben 33W di potenza. La manualistica, ma poi, oltre al cavetto per ricaricare il vostro smartphone, troviamo anche una seconda pellicolina di ricambio, perché una è già applicata. E c'è anche il pannetto chiuso che vi aspetta per un eventuale cambio. Eccolo qua, il Dogi V30 Pro che arriva imponente, ragazzi. Stiamo parlando di 375 grammi di peso. E vi assicuro che è un telefono che si sente in mano sotto ogni aspetto. Sia a livello di volume, di superficie, che di peso. Infatti è difficile gestirlo con una mano sola, specialmente digitando o comunque sia leggendo le notifiche. Io devo usare il mignolo qua che lo tiene, perché la mano per intero non riesce proprio a gestire un telefono così grande e pesante. Comunque sia, abbiamo un display bello, da 6.58 pollici, Full HD+, 120 Hz. E voglio farvi vedere subito il menu, che è questo qua, bello colorato. Nella sezione display possiamo scegliere sia tema chiaro o tema scuro, poi ve lo faccio vedere. E poi andare a aumentare o meno la frequenza di aggiornamento. 120 Hz, ma anche 90, ma anche 60. Mettetela a 120, ragazzi, perché? Perché la batteria è infinita, 10.800 mAh, ricarica fast 33 Watt. Poi vi dirò anche come si comporta. All'interno abbiamo un Dimensity 7050 octa-core con 12 GB di RAM. Ma vi dico subito che stiamo parlando di Android 13, eccoci qua. E vi faccio vedere, boom, Android 13, aggiornamento delle patch di novembre. Parliamo anche di RAM, 12 GB più 20 GB massimi di espansione, quindi 32 GB potenziali di RAM. Selfie cam che ci guarda lassù da 32 megapixel. Se lo vado a ruotare, questa design non è pelle. Ve lo assicuro, si tocca, sembra pelle, ma è rigida. È una finitura in finta pelle, però ricrea proprio l'effetto di pelle porosa. Non so se sentite il rumore della videocamera. E le super fotocamere, che sono le seguenti. Quella al centro, 200 megapixel in LED flash. La night vision da 24 megapixel. E questa qua, la terza, è una 16 megapixel che svolge la funzione di wide, quindi grande angolare. E anche macro, quindi non manca assolutamente nulla se non una tele obiettivo. Vi faccio vedere anche rapidamente come è composto lo smartphone. Abbiamo lo slot ibrido qua. Quindi o due nano SIM o SIM più espansione di memoria, ma 512 GB ragazzi vi basteranno senza dubbio. Pulsantino di selezione intelligente, quindi sceglierete voi qual è la funzione di questo pulsantino. E poi abbiamo microfono e porta di ricarica nascosta, coperta, quindi per l'impermeabilità, per assicurare magari che non si rovini, che non si sciupi con le immersioni o con la polvere. Dall'altra parte, accensione blocco-sblocco con lettore di impronta digitale, bilanciere del volume e in alto tutto pulito. Gesti o pulsantini virtuali. Questi sono i gesti ad esempio e avete visto che è tornato il menu del recenti perché possiamo impostare una funzione rapida anche al pulsante di accensione e impronta. Basta toccarlo, tenerlo premuto senza andare a schiacciarlo e possiamo richiamare una determinata gesture. Io ho scelto i recenti ma potete tranquillamente far scattare una foto, altre funzioni molto smart. E anche dall'alto a destra scendo vado sul menu dei toggles, dalla sinistra in basso vado sul menu delle notifiche. Quindi una doppia gestione del menu in alto. Griglie. Guardate qua, griglie. Ce ne sono due qua e due qua. In realtà l'audio è stereo, sì, ma esce solo da questa e da questa. Quindi impugnandolo in questo modo abbiamo queste due griglie che fanno uscire l'audio. Ecco, veramente tanta tanta roba. Non è pulitissimo, eh, devo dirvi la verità. Però è un audio veramente potente. Come volume ci siamo veramente, forse anche troppo. Vi parlo di autonomia perché mi piace proprio essere chiaro. Quando comprate i rugged avrete una batteria infinita. Lui si ricarica con 33 watt, quindi anche velocemente, ma la cosa più importante è che dura un casino la batteria. Vi faccio subito vedere una cosa. Quindi le, gli screenshot. Eccolo qua. Voglio farvi vedere che oggi ho terminato con 21, 20 minuti circa di telefono utilizzato. Avevo ancora il 7%, vado a farvi resoconto di quanto ho utilizzato il display prima di scaricare la batteria. Due ore più un'ora e cinquanta, più altre due ore quasi, più quasi tre ore e mezzo, un'ora e venti. I soldoni ragazzi ho superato le dieci ore di display attivo ed è una cosa favolosa. Non vi ricorderete mai di caricare questo telefono. Apro un'altra parentesi, lui ha tutte le certificazioni IP68, IP69K per coloro che sono distratti o che lavorano in un ambiente poco pulito. Faccio l'esempio. Chi lavora nei cantieri, cade il telefono per terra, nelle pozzanghere, nella polvere. Voglio parlarvi anche di questo tastino magico che lo possiamo utilizzare per un click, due click o pressione prolungata. Un click apre, in questo caso Instagram, torno indietro, due click dovrebbe aprire Facebook e guardate com'è veloce. E troviamo la personalizzazione dei click qua su chiave intelligente che sarebbe Smart Key, che sarebbe il tasto Smart. Tra le classiche applicazioni caricate da Doggy abbiamo il menu degli attrezzi con il fonometro, quindi quando alzo la voce avrete un'intensità e un numero più alto. Abbiamo la livella, abbiamo la lente di ingrandimento, il contapassi, la torcia che vedete può essere attivata o meno ed è questa sorgente qua di luce. Insomma, per i cantieri è perfetto, ma anche per fare trekking per la vita all'aria aperta, nella natura, lui non vi abbandonerà mai. Vi parlo di fluidità perché, l'avete già visto, lui ha un processore che non è un fenomeno ma gira piuttosto bene. Vi faccio vedere Instagram, vi faccio vedere la mia pagina. Ragazzi, chi di voi non è ancora diventato un mio amico su Instagram, dovete subito venire a trovarmi. Chasti Tech perché vi perdete tutte le recensioni, tutte le anteprime, tutta questa roba qua che pubblico e poi delle storie molto divertenti. Torniamo indietro, torniamo su Facebook e vi faccio vedere anche la tastiera. Tastiera che è zanzarosa, sì, ma glielo perdoniamo anche perché su uno spessore così e un peso così vi assicuro che sarà l'ultimo dei vostri problemi sentire un ronzio quando digitate. Comunque dai, si digita bene, non perde un colpo, eccetera, eccetera. Vi faccio vedere anche velocemente Chrome, questa è la Repubblica, vado a chiedere la versione desktop, vediamo come reimpagina il tutto. Qua manca ovviamente la prima pagina ed ecco la pubblicità, ecco che arriva. Andiamo anche ad aprire una notizia. Vedete, è tutto fattibile con questo rugged che appartiene alla fascia alta dei rugged. rugged potete dormire sereni, vi spinge, vi porta ovunque sia a livello di social che di navigazione. Non avrete mai rallentamenti o lag preoccupanti perlomeno perché ogni tanto un laggettino ce l'ha, non è un top di gamma da mille euro, ma glielo perdoniamo perché è un gran telefono. Sentite quanto è alto il volume, devo abbassare per necessità perché stiamo parlando di due casse tremende. Dai, andiamo a premere su gioca e come al solito, quando si guardano i miei video, ci gustiamo anche i punteggi di Antutu e Geekbench. Ha già caricato il gioco, quindi vi faccio vedere anche che lavora molto bene con 32 giga di RAM virtuali. Questo processore 70-50 di Dimensity. Guardate qua che bella giocabilità, 120 Hz e un display in Full HD+. Io direi che la prova è abbondantemente superata. Guardate quanto è fluido. Insomma, hanno fatto un bel lavoro, eh? Android 13, NFC presente, OTG presente, audio super. Dai, andiamo al capitolo successivo. Non abbiamo l'always on, infatti non appare nulla se non la mia faccia qua sullo schermo. Doppio tocco per rianimarlo. Avete visto che si sblocca con il volto. Ve lo faccio rivedere. Eccolo qua, vedete la velocità anche dell'animazione. Se lo vado a bloccare e non gli faccio vedere il mio volto, tocco questo tastino laterale e lui si sblocca. Quindi mai grandi problemi con questo V30 Pro. È affidabile, è completo. Mi riferisco anche al comparto foto-video che, non lo so voi, ma io sui rugged non avevo mai visto una cam da 200 megapixel ed è questa qua. Proprio attivabile, è 200 megapixel di fotocamera. Ecco qua, vedete come scatta le fotografie. E poi abbiamo la mitica night vision da 24 megapixel. Vi farò vedere cosa fa la night vision. E qui abbiamo la terza fotocamera, quella di cui vi ho parlato poco fa, che fa la grande angolare, ma fa anche la funzione di macro. Dove troviamo la macro? Nella sezione more. E nella sezione more dobbiamo andare a vedere la modalità ritratto e la sezione macro. Detto questo, è il momento di parlare della resa fotografica. Vado nella raccolta, vado nella fotocamera. Allora dai, vi faccio subito vedere cosa si intende per night vision. Un video completamente girato al buio, non c'era sorgente di luce, guardate cosa si vede e le relative fotografie. E soprattutto, sempre parlando di night vision, vi faccio vedere un confronto fra un video senza night vision, quindi proprio una condizione di luce aiutata dal mio flash e senza flash, quindi con la night vision. Questa è la differenza, ma vi voglio far notare anche la cam da 200 megapixel, che belli scatti offra. Oltre alla night vision, offre la modalità super notte, una super chiarezza, che vi va proprio a schiarire. Qualunque cosa state fotografando, al massimo è una lavorazione grafica. Bene amici, secondo voi quanto abbiamo speso per portarsi a casa? A casa luido GV30 Pro, ci sono prezzi diversi e adesso arrivo al dunque. Se lo comprate su Amazon, lo pagate al prezzo più alto di tutti, 519 euro in media. Sul sito ufficiale 415 euro circa, ancora meno su Banggood 365 euro, ancora meno su Aliexpress, dove lo paghiamo 339 euro. Anche se la mancanza del display AMOLED, secondo me, si fa sentire. E poi 120 Hz, ragazzi, oltre a tantissima rama e tanta memoria e un buon processore. È venuto bene questo smartphone, un progetto riuscito e vi consiglio di dare un'occhiata alle eventuali promozioni. Un telefono che farà felici tutti gli appassionati della categoria. Io per oggi ho finito, vi ricordo di seguirmi su tutti i vari social, Instagram, Facebook, ma anche su Offerte Smart Italia, dove ogni giorno troverete un casino di promozioni codici sconto sulla migliore tecnologia. Anche qui trovate Offerte Smart su Telegram e su Facebook, ma tutti i link saranno riportati qua sotto, in descrizione. Grazie per l'attenzione ragazzi, alla prossima, ciao!